Buon mercoledì 22 giugno, inizio dicendo una cosa del tutto banale, è caldo. Questa banalità esprime in pienezza i nostri discorsi di disadattamento anche al clima. Da una parte non siamo particolarmente sensibili al cambiamento climatico, che non coincide naturalmente con la percezione di caldo che possiamo sperimentare d'estate, ma è una questione ben più complessa, perché naturalmente il cambiamento climatico, anche il disastro climatico prodotto da noi, nulla a che vedere con i cambiamenti delle stagioni, se non in maniera molto parziale e impercettibile, nel senso che se improvvisamente venisse un temporale e noi finiamo per aver freddo perché improvvisamente si è abbassata la temperatura, da un punto di vista percettivo finiremmo per non credere che in realtà il clima stia cambiando in maniera drammatica e tragica per la sopravvivenza della specie umana su questo pianeta. Naturalmente poi noi possiamo anche osservare come nelle serie storiche il clima è sempre cambiato, ma questo cambiamento ha un sapore particolare, evoca una dimensione della tragedia e se non sappiamo ricondurre le nostre percezioni attuali relativamente al clima e consenso di profondo fastidio, è molto difficile che impariamo qualcosa da questa tragedia. I nostri pregenitori hanno imparato molto dalle rappresentazioni teatrali tragiche, in particolare nel tempo dell'antica Grecia le tragedie mettevano in scena le grandi domande dell'umanità. Oggi non siamo in grado di mettere in scena nulla se non qualche teatrino piuttosto scadente e contemporaneamente continuiamo a manifestare un nostro disagio. L'inverno perché è freddo, nelle stagioni intermedie perché piove troppo, d'estate perché è troppo caldo e corriamo ai ripari predisponendo mezzi che a loro volta influiscono negativamente sull'equilibrio ecologico del nostro pianeta. Gli impianti di condizionamento dell'aria vanno a manetta. Vogliamo avere freddo quando è caldo. Ecco questa è una contraddizione enorme che la dice lunga sulla nostra esistenza terribilmente nevrotica è votata alla tecnica che ci possa garantire un modo gradevole di vivere. Ma quella tecnica è mortifera, nel senso che mortifica di fatto la nostra capacità di adattamento. Da oggi iniziamo un percorso insieme verso il seminario del 25 di luglio che avrà come tema il Dionisiaco, i baccanali, l'estasi mistica e la contemporaneità, i riti del nostro tempo, le nostre rappresentazioni della realtà. E lo faremo con le tappe intermedie della scuola nelle quali cercheremo in tutti i modi di approfondire alcune parole chiave del Dionisiaco, del baccanale, dell'estasi mistica e di come oggi noi viviamo questi temi antichi nella contemporaneità. L'ebbrezza, l'euforia sono condizioni umane ancestrali che vengono sperimentate attraverso modificazioni dei stati di coscienza. Naturalmente l'alcol etilico rappresenta il primo strumento attraverso il quale gli umani hanno imparato a modificare lo stato di coscienza e hanno imparato artificialmente di uscire da sé, lasciandosi andare a una dimensione che ha molto a che vedere con la follia. Pertanto il seminario del 25 luglio sarà l'occasione per andare alle origini del senso stesso dei club che il professor Udolin inventò sostanzialmente. Nel 1964 sia per dare corpo a un processo di destigmatizzazione degli alcolisti, di elevare la qualità media della psichiatria, di concretizzare proposte comunitarie attraverso le quali si potesse affrontare il disagio esistenziale esistente come incapacità di accettare se stessi e le condizioni date in un modo nuovo, relazionale, tenendo conto di tutti gli elementi emozionali, sentimentali e anche misteriosi che albergano nell'animo umano. In fondo parlare del Dionisiaco e del baccanale ci riporta ai riti dello spritz contemporaneo ma ci riporta anche alle intossicazioni etiliche da osteria, alle feste degli alpini che sono dei baccanali collettivi dove ci si ubriaca la grande. E questo lo affrontiamo senza alcun giudizio morale, senza tirar fuori nuove forme di etichettamento, ma con uno spirito di comprensione a partire dall'esperienza delle persone che vivono nel club. Ritornando ai primordi, a quegli stati di intossicazione dai quali udono in parte. E in un primo tempo parla di una malattia della famiglia, poi fa un salto straordinariamente efficace, parla di stili di vita, di comportamenti che riguardano il nostro vivere comunitario e relazionale, compreso il vivere familiare. Ci invita non semplicemente all'astinenza ma alla sobrietà che è ben altra cosa, che non è l'utile a questione della ricerca del godimento e del piacere e anche della necessità di stemperare il dolore che accade inevitabilmente nel corso dell'esistenza di ciascuno. Lenire il dolore, vivere il piacere, sono le caratteristiche umane specifiche che caratterizzano la qualità della vita stessa. Non sono certo i consumi, l'accumulazione di beni materiali che fanno la differenza sostanziale rispetto alla salute mentale, perché se la ricchezza fosse garante dell'equilibrio mentale ricchi matti non potrebbero esistere. In realtà ci sono molte persone, molto ambienti, i quali soffrono di stati depressivi, di alterazione del tono o dell'umore, di necessità artificiosa di ricorrere all'uso di sostanze psicoattive per superare la noia dorata della loro esistenza. Ma neppure le ingegnerie sociali, che magari erano nate da uno scopo benevolo, una maggiore uguaglianza tra i cittadini, immaginando scenari di condivisione del bene comune o di ammortizzatori sociali che facessero sì che le persone fossero più sicure nell'ambiente. Sto pensando alle grandi narrazioni del positivismo e dell'idealismo storicista, il quale immaginava che potevamo costruire uno Stato che garantisse tutti i cittadini, riducendo le disuguaglianze tra le persone, arrivando addirittura a immaginare che il vivere comune fosse centrale. Questo avrebbe, secondo questa prospettiva, garantito l'equilibrio mentale. Ma la sofferenza psichica non si è fatta mancare neppure in quelle forme di organizzazione dello Stato che si vantavano ed erano guardate con ammirazione da un idealismo di sinistra, ma un po' troppo meccanicista, che non guardava alla dimensione autentica della vita, che è un intreccio inscindibile tra dimensione materiale e dimensione spirituale. Nell'insieme costituiscono un tutt'uno che contiene in sé anche l'insoddisfazione del vivere, che contiene in sé anche la ricerca di modificazione degli stati di coscienza che porta al rito dionisico, ai bacanali, alle estasi mistiche o alle forme di godimento della contemporaneità. Quindi non si tratta di un seminario astratto e teorico, ma è un seminario al quale mi piacerebbe che partecipassero tutti i membri del club narrando la loro esperienza di ebrezza e di tristezza, di noia e di esuberante presenza prometeica nella vita. Quante volte abbiamo assistito a cerimonie, matrimoni nei quali l'alcolimia crescente coincide con una euforia crescente, che a volte si trasforma semplicemente nell'elevare il volume della voce, ma qualche volta tira fuori anche una aggressività remota, non frequentemente ma neppure raramente. In certe cerimonie di nozze accadono anche degli alterchi tra i partecipanti, che rovinano la festa ovviamente, ma sono espressione di quell'alcolemia. Quindi ritornare agli alcolisti in trattamento, a quei club, a quelle comunità che poi progressivamente si sono evolute e che oggi noi interpretiamo come club di ecologia sociale e antropo spirituale, ritornare a quelle origini non è un tornare indietro, ma perseverare in un percorso che non avrà mai fine, perché gli esseri umani, i viventi dotati di un minimo di coscienza, anche gli elefanti si intossicano, anche gli elefanti si danno ai baccanali quando vanno a mangiare un frutto che fermenta, che cade da un albero e che loro con colpi decisi fanno cadere. E quel frutto che contiene alcol etilico contiene anche un allucinogeno e gli elefanti ritualmente ogni tanto si danno all'ebbrezza e alla modificazione del stato di coscienza poi creando devastazione nella savana. È un fenomeno che avviene in natura, ma che avviene poi anche nella nostra cultura umana e che noi siamo chiamati a prendere in considerazione perché questa tendenza è ancestrale, è vecchia, ci appartiene. È nel nostro codice genetico-culturale questo modo di vivere che non è qualcosa ascrivibile soltanto a quelli che vengono impropriamente definiti alcolisti o tossicomani. È qualcosa che riguarda tutti, da sempre. È un grande mistero che va esplorato se vogliamo autenticamente introdurci nella dimensione della sobrietà, tenendo presente che non avverrà mai la possibilità di porre fine a questa seduzione e attrazione nei confronti dell'ebbrezza. Quella resterà, non è una patologia, è un fisiologico rapporto con la nostra cultura e con la natura. Ma questo non ci giustifica perché poi noi a questo dovremmo in qualche modo introdurre la dimensione etica dell'esistenza, la dimensione che è capace di dare un senso alla vita stessa senza lasciarla declinare in una depressione esistenziale che non è più capace di godere, di vivere intensamente il piacere e di lenire il dolore attraverso la relazione. Questi sono i temi profondi, fondamentali che il seminario propone e da oggi partiamo con l'organizzazione. Partiamo dalle esperienze di ebbrezza delle persone, narrandole negli incontri di club, quello che dovrebbe sempre avvenire del resto, riportandole nella scuola dove incontreremo parole apparentemente contrapposte ma che in realtà sono complementari e arrivando alla data del seminario come non spettatori ma partecipi, secondo la tradizione dell'antico teatro greco, dove non era uno spettacolo passivo a proporsi, ma era un evento estremamente partecipato, dove il coro, gli attori e gli spettatori diventavano un'unità relazionale dentro la quale si svolgevano drammaticamente le questioni che riguardano da sempre e riguarderanno sempre l'umanità. Credo che noi oggi stiamo vivendo un modello malinconicamente tecnicista e riduzionista. Abbiamo perso la passione per la vita, dobbiamo recuperarla, riprenderla con le sue imprevedibilità, con l'accettazione anche di momenti drammaticamente critici che non possono essere eliminati dall'esistenza, ma che rendono l'esistenza stessa un'avventura dalla quale possiamo imparare molto ed evolutivamente possiamo anche costruire nuovi modi di vivere e di esistere. Non c'è una fine della storia, non c'è un momento magico nel quale la scienza ci possa garantire che adesso tutto è compreso, perché noi viviamo costantemente nello svelamento, ma nello stesso tempo quella verità svelata ci riporta ad altre condizioni di mistero che dobbiamo ulteriormente svelare. È un processo vitale dentro il quale noi siamo chiamati a essere protagonisti non spettatori. Ed è con questo spirito da protagonisti che iniziamo questo mese nel quale riaffrontiamo il tema fondamentale dal quale i club sono sorti nel 1964, cioè quello delle forme di intossicazione che necessitano una ricerca di sobrietà. Buona giornata a tutti.